Dal 7 all'11 giugno a Pesaro, presso il Salone Nobili di Palazzo Gradari, si terrà la mostra fotografica Scatti Globali, Pesaro oltre i confini. Nel segno della capitale della cultura, infatti, Bacciardi Partners ripercorrerà con i visitatori i viaggi vissuti all'estero con l'imprenditoria pesarese, alla scoperta dell'internazionalizzazione del territorio. Da 50 anni noi operiamo sul territorio e proprio 50 anni fa è nata la spinta all'internazionalizzazione nel nostro territorio. Questa spinta è stata davvero stimolata e accompagnata dall'ufficio di Bacciardi Partners e proprio dal suo fondatore, l'avvocato Enzo Bacciardi. E quindi possiamo testimoniare davvero da quell'epoca fino ad oggi tutto quello che hanno fatto le industrie del nostro territorio e gli imprenditori, a fianco ovviamente delle istituzioni e accompagnate da questo personaggio che noi riteniamo molto visionario, molto coraggioso, che è andato oltre le frontiere insieme a questi uomini, a questi imprenditori. Hanno dato vita davvero a un racconto avventuroso e meraviglioso che noi abbiamo cercato di testimoniare non solo con parole, raccontando la storia in un evento, ma anche con fotografie che fanno vedere tutte queste avventure nei fatti, nel concreto, in paesi esteri di tutti i generi. A testimoniare gli incredibili viaggi all'estero, narrando di un mondo all'epoca completamente nuovo da scoprire, è proprio uno dei protagonisti della storia, ovvero l'avvocato Enzo Bacciardi. Io ho avuto la fortuna, la circostanza, la fortuna di immettermi nella professione nel momento in cui gli imprenditori del distretto di Pesaro iniziavano il loro percorso di internazionalizzazione e insieme ci siamo incontrati perché loro ovviamente esercitavano attività imprenditoriale, io attività professionali e avevano bisogno dei nostri servizi, dei servizi legali, ma non solo, perché abbiamo fatto un'assistenza a tutto campo, li abbiamo assistiti nel gestire i contatti, nel impostare i contatti e in questo percorso appunto abbiamo attraversato un po' tutto il mondo, perché abbiamo iniziato con la Fiera degli Arabi, dove il rapporto era con i paesi arabi e in quel momento anche con diversi paesi europei, Francia, Germania, Svizzera in particolare. Poi si è aperto il mercato dell'est, la perestroica, poi la Cina, poi l'India, poi la Turchia, poi il Sud America, in America del Nord lavoravamo già prima della perestroica, come in alcuni paesi del Maghreb, con la Libia abbiamo lavorato molto. Quindi in questo contesto abbiamo viaggiato insieme e abbiamo esplorato. Non sapevamo cosa c'era dall'altra parte, anche perché in Francia, Germania, in America del Nord c'eravamo già stati, ma nei paesi dell'est non c'eravamo mai stati, in Libia non c'eravamo mai stati, nessuno c'era stato, come pure in Cina. E quindi abbiamo fatto una conquista, come diciamo noi, abbiamo fatto un pionierismo, siamo andati a vedere per conquistare. Grazie.